La partita è andata, si era messa male, era difficile venire qui in un momento delicato per loro, sapevamo che si giocavano la vita e per come era andata la partita siamo riusciti a riprendere il risultato e ti dico la verità, era un po' rammaricato a fine partita perché se riusciamo a tenere gli uomini alla pari dell'Ascoli potremmo anche fare qualcosa in più secondo me però è un punto che abbiamo preso con la forza, col carattere, quello che dobbiamo sempre avere Loro hanno trovato il gol su una palla da fermo, l'hanno creato tanto e siamo un po' fragili in questo Prendiamo gol, magari non siamo forti a reagire come dobbiamo essere, quindi magari siamo andati un po' giù poi hanno fatto un altro gol su palla da fermo e poi non è facile, invece siamo stati bravi nel secondo tempo a reagire e a riprendere il risultato Il campo era abbastanza scivoloso, era un bellissimo campo secondo me, però si scivolava quindi dobbiamo stare attenti a scegliere i tacchetti giusti ma è così, in Serie B trovi magari dei campi particolari e dobbiamo essere bravi noi ad attarci Dobbiamo essere forti mentalmente perché l'approcciamo magari bene, poi prendiamo un gol e vengono fuori i fantasmi che abbiamo avuto nella prima parte del campionato, quindi dobbiamo essere forti mentalmente poi il secondo tempo sapevamo che con un gol avremmo potuto riaprire la partita perché loro potevano andare in difficoltà e abbiamo trovato il gol del 2 a 1 e dopo abbiamo attaccato fino a pareggiare e ho detto il ramarico è quello di essere rimasti poi 9 e non avrei potuto ancora continuare però dobbiamo essere compatte, non dobbiamo concedere niente perché alla prima difficoltà poi possiamo cadere in delle sconfitte dobbiamo avere l'atteggiamento giusto secondo me, sia mentale, soprattutto mentale, che non dobbiamo mollare mai questo dobbiamo saperlo perché abbiamo tutte le finali d'ora in poi e non ci possiamo permettere questi errori se siamo quelli del secondo tempo con questa mentalità possiamo fare bene, possiamo fare veramente bene quindi prendiamo quello che abbiamo fatto di buono oggi e lo riportiamo in casa col Carpi e dobbiamo sfruttare questo secondo tempo come rampa di lancio io sono un ragazzo ambizioso, sicuramente non sono soddisfatto appieno del mio campionato non è facile magari stare fuori e poi subentrare però io metto a disposizione della squadra, dei compagni e voglio finire il campionato nel migliore dei modi dando il massimo per la squadra perché meritiamo di fare di meglio dobbiamo essere tutti quanti a disposizione senza atteggiamenti negativi e sicuramente per quanto mi riguarda voglio dare il massimo contributo alla squadra anche se magari non ho reso al meglio in delle circostanze però vorrei fare tutte le partite come oggi